Ci troviamo con Cesare Granati di Scrapi con l'SRL. Noi siamo qui al vivaio delle idee per presentare la nostra società, che è una start-up digitale che si occupa di mettere in comunicazione chi ha idee per riutilizzare i materiali di scarto, quindi artigiani, designer, studenti, ricercatori, con tutte le aziende, le pubbliche amministrazioni che ne hanno tanti e non sanno come riutilizzarli al meglio. L'elemento innovativo è il nostro obiettivo finale, che è lo sviluppo di una piattaforma collaborativa, un social network, incentrato sul riciclo creativo. Perché? Perché il riciclo creativo porta con sé tutta una serie di benefici ambientali, sociali ed economici che, se fosse possibile mantenere questa collaborazione tra le varie parti costante, sarebbero anche i benefici costanti e sensibili per tutte le persone coinvolte. Come avete cominciato? Chi vi ha dato una mano? Dove avete trovato i primi soldi? Noi siamo nati all'interno di un'azienda di Vicenza, Develo, una web company, che insieme all'Unione Europea ha portato avanti un progetto di formazione rivolto ai giovani e ai giovani imprenditori. Alla fine di questo percorso abbiamo convinto l'azienda della validità della nostra idea, del nostro progetto e a fine aprile abbiamo insieme all'azienda aperto questa SRL che si chiama come il progetto Scrapical e quindi è tutto partito da lì e anche la possibilità di avere una sede, di avere il materiale con cui lavorare, la conoscenza di certi ambienti, aziende che magari da soli non potevamo raggiungere, se li ha dati proprio questo percorso e questa partnership, o meglio è socia nostra, Develo, un SRL. In bocca al lupo. Crepi. Ciao.